Au, au. Il rapporto artistico con Roma è ottimo, nel senso che con il gruppo siamo venuti nel lontanissimo, credo, 84, forse, 85, quando non avevamo ancora neanche la più pallida idea che avremmo intrapreso questa attività e già a Roma c'era voglia di ascoltare gli eri nostri rettese, per cui dopo quella volta siamo venuti tantissime, altre volte sempre accolti con simpatia, curiosità, interesse e senza metterla sul campanilismo Roma-Milano, che sappiamo che è una cosa importante, preoccupante, polentoni, controterroni, quelle robe lì. Sono parziale, perché a me piace Roma, quindi anche quando quelli che ci abitano mi dicono sia a te piace ma perché tu non ci vivi, allora che non ci vivo ma quando vengo qua, cioè a me mi piace tutto, quindi cosa devo dire? Au, au. Andare a casa.